Oggi affrontiamo l'ultima possibilità che abbiamo di creare una funzione per il nostro PLC utilizzeremo questa volta il linguaggio FUP che è quello a blocchi quindi un altro dei 5 possibili linguaggi che possiamo adottare con i PLC iniziamo subito oggi vediamo come realizzare una funzione utilizzando il linguaggio FUP FUP è la terminologia di Siemens se dobbiamo fare riferimento alle normative GEC eccetera eccetera questo qui sarebbe il linguaggio FBD quindi Functional Block Diagram quindi diagramma blocchi cioè possiamo andare a definire il comportamento della funzione che adesso andremo a creare utilizzando un sistema blocchi cioè abbiamo dei blocchi funzionali ogni blocco svolge un suo compito quindi avremo dei segnali che vanno all'ingresso questo fa qualcosa e produce un segnale in uscita possiamo andare a collegare tanti di questi blocchi per descrivere un comportamento complesso quindi andare a fargli fare cose allora questa cosa qui si può usare per fare le funzioni ma anche per andare a pilotare il comportamento il funzionamento del PLC magari lo vedremo più avanti quindi non sono un amante del FUP barra FBD perché bisogna un po' capire la logica che ha probabilmente ci vuole un po' di tempo sono più un programmatore quindi apprezzo di più un SCL e l'adder me lo sto facendo piacere la funzione che creeremo oggi sarà veramente semplice ci serve più che altro per avere un assaggio di come funziona questa cosa e sapere che c'è anche questa possibilità allora vediamo l'adder questo è il nostro PLC andiamo a collegare due pulsanti quindi abbiamo l'alimentazione positiva un primo pulsante che mettiamo qui questo lo colleghiamo all'ingresso 0.0 quindi I0.0 secondo pulsantino collegato all'ingresso 0.1 quindi I0.1 avremo un'uscita una sola uscita andremo a pilotare un LED quindi registore 2K2 perché lavoriamo a 24V il nostro leddino che va verso ground quindi di qui avremo poi un morsetto M da collegare a GND e da quest'altra parte invece avremo il morsetto L+, o simile a cui portare i 24V per alimentare il LED di uscita invece come andremo a definire la funzione? allora la funzione verrà realizzata con un blocco funzionale quindi un FC la creeremo andando a mettere due blocchi mettiamo un blocco lo chiamerei OR solo che lo trovate dentro T.A.Portal indicato così quindi maggiore o uguale 1 su qui porteremo due segnali un A e B quindi questo va a vedere si comporta come un OR basta che uno dei due sia alto per dare un segnale in uscita alto questo segnale in uscita andiamo a collegarlo a un blocco set che è semplicemente chiamato S questo imposta un bit e lo collegheremo a un segnale C questa cosa qui prenderà la forma di una funzione che utilizzeremo quindi avremo due ingressi e un'uscita come attiviamo la funzione? ci metteremo sempre nel blocco main o B1 dove troviamo ancora il ladder perché è un blocco funzionale quindi andremo a trascinare il nostro blocco funzionale qui questo prenderà diciamo corrente la corrente virtuale dal montante di sinistra e qui poi metteremo il segnale che proviene dai due pulsanti quindi un po' una forzatura ok quindi abbiamo BT1 e BT2 quindi qua restiamo senza bobina ma serve solo per attivare il nostro blocco e poi l'uscita viene messa qua e andremo a mettergli LED 0 in modo che attivi l'uscita mentre studiavo queste funzioni sono incappate nei manuali di Siemens quindi qua vi faccio vedere uno il manuale del FUP in cui trovate tutta la descrizione di quello che si può fare come vedete ci sono molte possibilità quindi tanti blocchi funzionali già pronti che potete collegare spero di ricordarmi lo vado ad includere nel repository di GitHub così che potete scaricarlo nelle risorse del progetto quindi qui vedete l'indice con tutto quello che si può fare questa è la copertina vedete Siemens Simatic schema logico FUP qui è per l'S7300 ma funziona anche con il 1200 creiamo quindi la nostra funzione creiamo un nuovo progetto lo chiamiamo FFUP scegliamo il PLC nel mio caso l'S7200 e lo aggiungiamo al progetto creiamo subito le variabili che ci servono quindi nella sezione variabile apriamo la tabella delle variabili aggiungiamo i due pulsanti quindi BT0 boolean I00 va bene secondo pulsante BT1 anche questo boolean l'indirizzo è già giusto aggiungiamo il led led 0 sarà boolean però correggiamo il tipo di segnale perché va su intanto qua 0 chi sbaglia ogni volta e quindi mettiamo una Q clicchiamo sulla spunta e siamo a posto ora andiamo nella parte blocchi di programma clicco su inserisci il nuovo blocco doppio clic si apre questa finestrella creiamo la nostra funzione facciamo FUN FUP che se il nome ha poco senso clicchiamo su funzione FC blocco verde verifichiamo di mettere FUP qui e diamo OK qui siamo nell'editor per creare la funzione quindi dobbiamo definire gli ingressi uscite e eventuali parametri intermedi ora iniziamo a mettere gli ingressi abbiamo detto ci servirà un ingresso A di tipo booleano poi mettiamo un altro ingresso B di tipo booleano ma qua io potrei anche mettere già direttamente gli ingressi fisici però è sconsigliabile quindi conviene sempre fare il passaggio dei dati quindi creare dei parametri andiamo a creare l'output lo chiamo banalmente C e sempre di tipo boolean penso sia tutto ora andiamo a costruire la nostra funzione qua se volete potete mettere un nome quindi funzione in FUP andiamo ad aggiungere il primo blocco trascino il blocco che vedete lì sulla piccola toolbar quindi viene aggiunto doppio clic sui punti di domanda qui apriamo questa finestrella andiamo a cercare la funzione OR che abbiamo visto prima è indicata dal maggiore o uguale 1 diamo invio vedete che vuole due ingressi quindi mettiamo A mi suggerisce cancelletto A perché le variabili vengono riferite con il cancelletto davanti poi qui abbiamo la seconda quindi mettiamo B mi suggerisce cancelletto B e siamo a posto vedete questa specie di stellina gialla serve per aggiungere ulteriori ingressi a noi non ci serve quindi siamo a posto ora andiamo a aggiungere il secondo blocco clicco sulla toolbar sul blocchietto vedete che appare questa nuova casellina andiamo a appiccicarla al blocco già esistente quindi la trascino vedete che diventa verde e me li collega ora clicchiamo sui punti di domanda e qui andiamo a mettere la S che sta per set doppio clic vuole sapere chi deve settare mettiamo C l'uscita C quindi questa è la nostra funzione ora passiamo alla parte main la parte main clicco sul blocco meno B1 questo è un blocco in ladder classico per attivare il tutto cosa facciamo allora abbiamo detto prima ho il blocco funzionale lo trascino dalla parte di sinistra qua sulla nostra sulla nostra riga vedete che si attiva il quadratino verde lo rilascio il blocco funzionale collegato direttamente al segmento al montante quindi verrà sempre attivato su A e B cosa vado a mettere vado a mettere gli ingressi quindi qua metteremo BT0 sotto mettiamo BT1 e poi qui su C abbiamo l'uscita l'uscita per noi è LED0 e quindi questo qua è tutto quello che ci serve compiliamo prima di caricarlo sul PLC qua mi dimentico sempre vedete che mi è segnato un errore perché non ho compilato il blocco funzionale va compilato a parte quindi riclicco su FUNFUP faccio compila quindi viene compilato ora è tutto a posto posso procedere a caricare il tutto sul PLC ecco qua caricato il programma vedete premendo un tasto o l'altro tutti e due il LED si accende la breve panoramica sulla creazione di funzioni termina qui abbiamo visto i punti essenziali poi cercheremo di applicarli in qualche situazione pratica e un pochino più realistica bene per oggi è tutto vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani ciao ciao